Benvenuti alla nostra informazione, quella che segue è una selezione dei servizi più importanti del Tg Bassano dell'ultima settimana. Ferragosto da Bollino Rosso per quello che riguarda le temperature, però in città tanti turisti, come è andata? Allora, la giornata è andata veramente molto bene, i turisti sono tanti, la cosa è molto piacevole visto il brutto periodo che abbiamo trascorso. Il Green Pass ha creato un po' di problemi, ha rallentato un po' il vostro lavoro oppure tutto è filato liscio? No, non ci sono stati incidenti di percorso, problemi, tutto è filato tranquillamente. Come avete trascorso il Ferragosto? Cosa avete fatto di bello? Una grigliata tra amici. E oggi invece in giro per Bassano? Oggi un giretto a Bassano, che piace tanto mia moglie, però ci sono i negozi chiusi, quindi una salvezza per me. Ieri siamo stati a casa. Quindi Ferragosto a casa e il menù? Il menù no, abbiamo fatto un menù da asporto al sushi, quindi siamo stati in casa col menù cinese. E oggi, giro sul ponte, temperature come sono? Sono comunque calde, ma sul ponte si sta bene, perché è un po' più arieggiato, è caldo comunque. Ferragosto passato, come lo avete trascorso? A casa. Al fresco? Al fresco, in aria condizionata, e lui in montagna. Anche lui quindi sempre al fresco. Il menù della giornata qual è stato? Ho fatto fare a mia moglie un pasticcio di ragù. In montagna dove di bello? A Gallio, grigliata con gli amici. Se ne va un altro pezzo della Bassano di un tempo. La città cambia, si evolve e quelli che erano i punti di riferimento per cittadini e turisti stanno sparendo, uno alla volta. Oggi è toccato alla storica edicola di Erio Carraro di Piazzotto Montevecchio, che per mezzo secolo ha permesso a Bassanesi e ai visitatori della città del ponte di avere notizie, giornali, informazioni, riviste, un sorriso e una battuta sul tempo, sull'economia e sull'attualità locale. La struttura è stata rimossa e portata via e tanti saluti. La città cambia volto, com'è giusto che sia, ma saranno di certo in molti ad alzare lo sguardo, di passaggio dal ponte alla piazza o viceversa, per un saluto a quell'icona che non c'è più. Poi, come sempre accade, anche questo finirà e ci vorrà del tempo, perché le foto e i ricordi di Piazzotto Montevecchio, dell'edicola di Erio Carraro, di negozi e delle botteghe che c'erano e non ci sono più, tornino sotto forma di foto, video, cartoline. E allora tutto quello che rendeva viva, vivace e inimitabile Bassano tornerà in vita per una volta, per un istante ancora. E sarà bello come allora, forse un po' di più. Attimi di paura alla Sagra di San Rocco, proprio nella serata conclusiva, quando il vento e la pioggia si sono riversati con impeto sulla tensostruttura. Sono stati attimi proprio di paura, di ansia, tutto un fuggifuggi, perché il tendone sembrava veramente che si togliesse, si spostava a destra e a sinistra e sono stati tutti un po' spaventati, ecco. Il tendone ha cominciato a vibrare e tutte le persone, compresi noi volontari, eravamo sotto che la paura cominciava a farsi sentire. Un plauso sia a tutti gli organizzatori e alla protezione civile, perché ci hanno accompagnati a gruppi proprio, ma velocemente, nelle cucine che sono in muratura nuove, sicché molto sicure, continuando a dirci di tenere bene le mascherine, di stare a famiglia, gruppi uniti di famiglie per questa situazione del Covid. Bisogna fare un applauso a tutti i volontari, perché hanno gestito la situazione in modo eccellente. Una situazione d'emergenza gestita al meglio dal Comitato per i festeggiamenti di San Rocco e dalla protezione civile, tanto che non si sono registrati né feriti né danni sostanziali. Anche in questa circostanza l'affiatamento che come gruppo Comitato per i festeggiamenti di San Rocco abbiamo si è rilevata veramente la carta vincente, perché ci siamo guardati negli occhi e ciascuno sapeva cosa doveva fare. Una storia a lieto fine, al punto che, passato il peggio, lo staff ha persino ripreso l'attività insieme agli oltre 150 ospiti. Vi assicuro che in quel momento è partito un applauso, che mi fa ancora il perdoca, perché veramente è stato un calore, che ci ha dato ancora più forza, che ci ha dato ancora più stimolo, diciamo, a continuare in questa iniziativa. L'Afghanistan ripiomba nell'orrore, immagini drammatiche, notizie, shock, stanno facendo il giro del mondo, gettando nello sconforto tutti i paesi democratici. Eppure per vent'anni anche i nostri soldati italiani in Afghanistan hanno fatto di tutto per riportare la pace. In 53 hanno perso la vita, uno di loro, il primo caporal maggiore, Matteo Miotto, di Tiene, morto il 31 dicembre 2010 a soli 24 anni, mentre era in missione. Lui sapeva che sarebbe successo questo, ha dichiarato il padre Franco, raggiunto telefonicamente, e una domanda ancora oggi lo attanaglia. Ne è valsa la pena? Beh, guardi, io per la verità sono dieci anni che mi pongo questo interrogativo. Io ho sempre avuto forti dubbi perché non vedevo le coordinate chiare perché andassi a buon fine. Ci vuole poco a fare quattro conti, diciamo. Matteo nella sua lettera oltretutto è stato molto chiaro, lui aveva già capito, aveva già visto. E oltretutto i precedenti non è che facessero molto incoraggiare. Franco Miotto si riferisce a una lettera che suo figlio Matteo scrisse qualche tempo prima di morire. Un disastro annunciato, ma Matteo, dice il papà del caporal maggiore, non si è mai tirato indietro. E lui era convinto di quello che faceva e io l'ho detto e lo ripeto, se tornassi indietro lui sicuramente lo rifarebbe. E questa è la consolazione più grande che ho. Lui era convinto ha fatto una cosa che secondo me la rifarebbe sicuramente. L'altro giorno, quando è precipitata la situazione, che io per la verità non pensavo neanche che gli eventi precipitassero così. Però ho detto subito, adesso a qualcuno fischieranno le orecchie perché se noi andiamo a guardare gli scritti di Matteo, quelli che guarda a casa, ha mandato quel mese e mezzo prima di morire, sono come un dogma secondo me. In codice dicono niente e dicono tanto per chi le sa leggere. Non dovremmo stupirci di quello che è accaduto, dichiara Lapidario Franco Miotto che aggiunge Questa cosa qua era sotto gli occhi di tutti. Poi quando succedono le cose fanno tutto questo scalpore qua. Sono dieci anni che io dico ma veramente ne è valcia la pena e quel mio veramente ne è valcia la pena. Comprendeva tutto questo perché io ho avuto la fortuna di contattare mio figlio, di sentirlo, di vederlo. E queste cose qua si respiravano, si toccavano e lo sapevano tutti questo. C'è amarezza per quello che è successo nei confronti soprattutto di tanti giovani che hanno perso la vita come suo figlio? Per noi che l'abbiamo vissuto sul sangue dei nostri figli non più di tanto. Chiediamo che in tutte le prossime sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni dove partecipano i consiglieri sia verificato che chi partecipa in presenza in un ambiente chiuso esibisca il Green Pass. Così qualche giorno fa al nostro microfono il consigliere comunale Roberto Campagnolo parlando della lettera che le opposizioni hanno inviato al presidente del Consiglio Comunale di Bassano Stefano Facchin. Poche ore fa Facchin ha inviato un comunicato in cui dichiara che in base al regolamento non è sua responsabilità richiedere il Green Pass ai consiglieri e se ne ha lavato le mani. Peccato che in questa vicenda avrebbe dovuto prendere in mano la situazione la sindaca Elena Pavanna visto il ruolo che ricopre proprio per una questione di sicurezza appoggiare questa richiesta delle minoranze. Non ne avrebbe perso incredibilità secondando l'opposizione, anzi ci avrebbe guadagnato. Perlomeno avrebbe potuto seguire, e non è mai tardi cara sindaca, le orme del collega di Rosà Paolo Bordignon. Tra l'altro pure lui lega che senza porsi il minimo dubbio ha preso una decisione ferma. Credo che un amministratore deve avere una correttezza prima di tutto verso i cittadini dopodiché anche verso le persone che lavorano all'interno della struttura pubblica. Noi come amministratori dobbiamo dare un esempio per cui la possibilità di far vedere, di mettere in tranquillità i cittadini ma soprattutto anche le persone che lavorano dentro, posizionando il Green Pass con una busta chiusa per riservatezza perché non hanno in posizione la mia ma è un invito. Dopodiché credo che è il segno di correttezza massima che si possa avere. Nel prossimo consiglio comunale volevo allargarlo anche l'opposizione perché è giusto da consiglieri comunali e anche loro hanno questi obblighi. I ragazzi sono stati loro anche a spingere per farlo per cui credo che sia un segno di maturità ma un segno anche di trasparenza verso i cittadini. Un segno di rispetto, di trasparenza, di correttezza verso cittadini e cittadine e chi lavora per il comune. Bordignone è andato oltre le normative poco chiare, ha preso una decisione per il bene della sua comunità senza pensare ai colori politici ma solo al rispetto delle persone e soprattutto del ruolo che ricopre. Chi ho orecchie da intendere? Caro amico ti scrivo, anzi meglio di no. E già perché il rischio è quello di scrivere oggi e avere una risposta fra sei mesi. Tanto ha dovuto aspettare un nostro telespettatore bassanese che si è rivolto a noi per dare voce al suo disappunto. Da quest'anno, dall'inizio del 2021, lei ha cominciato a riscontrare dei problemi con il servizio postale. La posta non le viene recapitata con regolarità in Via Beata Giovanna. Che cosa sta succedendo? Niente, io ai 13 di gennaio di quest'anno ho fatto la visita specialistica all'ospedale, i risultati non mi arrivavano, perciò ho deciso di ritornare all'ospedale e chiedere, mi hanno dato le copie. E quelle che avevamo spedito, il 21 gennaio che l'ospedale ha spedito, le ho ricevute sei mesi dopo. Questo è ridicolo. Sei mesi per ricevere il referto di una visita. Altra posta importante che è finita chissà dove e che arriverà chissà quando. Adesso sto aspettando da quattro mesi posta importante che mi deve arrivare, dei Stati Uniti, è stata spedita da quattro volte, è uscita dagli Stati Uniti e qua non ho ancora fatto niente. Ogni giorno sto da aspettare, aspettare, aspettare se arriva, ma non arriva. Un problema, un disservizio che sembra nascere dallo smistamento di Padova, anche se le poste centrali di Bassano non sono riuscite ancora a dare una risposta chiara al nostro telespettatore. Sono rivolto alla posta, ho fatto reclamo, dicono qua a Bassano che là non c'è posta mia, allora mi dicono che dipende da Padova, uno si dà la colpa all'altro. Veramente io come cittadino non lo so da dove è il problema, qualcuno è responsabile di questa roba. Statale 47 Val Sugana, continuano i disagi e i problemi sia ai residenti ma disagi anche alla viabilità. Ogni giorno riceviamo tantissime segnalazioni da parte di voi telespettatori che vi lamentate sulla situazione in cui versa la strada. Oggi ci troviamo a San Nazario perché abbiamo ricevuto una segnalazione della signora Raffaella che il residente di quest'area fa fatica ad attraversare la strada. Da quanto tempo che la strada si trova in questa situazione? Io l'ho sempre vista così, è sempre peggio comunque, sempre peggio. E qua non c'è neanche un semaforo per attraversare la strada, non c'è niente per i pedoni. Infatti nel tratto di San Nazario non ci sono semafori che regolino l'attraversamento pedonale in sicurezza. Non c'è niente da fare, è un disastro, si può neanche attraversare per andare a fare una passeggiata. Se uno fa una passeggiata è da fare lungo la strada statale, andare in bicicletta. Oltre ad attraversamenti pedonali insicuri, ci sono anche fermate degli autobus a bordo strada molto pericolose che non si vedono perché ricoperti dall'erba alta. Ma gli autobus invece si fermano, riescono a fermarsi? Si fermano davanti a casa mia che c'è una fermata, quello che viene giù da Enigo e che va a Bassano. Sempre con disagio comunque, perché delle volte sulla fermata ci sono delle macchine perché hanno fatto fare le case, però non c'è parcheggio. E quindi lei che cosa chiede in questo momento? Prima di tutto chiedo che ci sia qualcosa di sicuro per attraversare il semaforo. Per attraversare le strisce non si vedono e non c'è niente, neanche un lappeggiante. E anche possibilmente si possono fare un parcheggio perché quando viene qualcuno a trovarti non c'è parcheggio. Dai e dai, alla fine anche a Bassano si apre uno spiraglio sul Green Pass in consiglio comunale. Il sindaco Elena Pavan ha diffuso una nota in cui si dice decisa ad approfondire il tema in una logica di attenzione alla salute di tutti e per la ricerca di una soluzione adeguata alle funzioni dell'Assemblea cittadina. Pavan annuncia l'avvio di un percorso con la maggioranza e auspica di ricevere collaborazione dall'opposizione che peraltro ha sollevato la questione qualche giorno fa. Il sindaco ribadisce di essere vaccinato e conferma che gran parte della giunta e dei consiglieri di maggioranza hanno già aderito alla campagna vaccinale o sono decisi a farlo. Pavan auspica che la questione del Green Pass non diventi terreno di scontro politico e ricorda come chi riveste ruoli istituzionali abbia più doveri di ogni altro cittadino ma parla anche di posizioni individuali che non rappresentano lo schieramento di governo. Insomma, si è fatta la luce ma restano ancora parecchie ombre. Piazza Castello, uno degli scorci più suggestivi di Bassano. In questo agosto, contraddistinto da una presenza importante di turisti in città ci è bastato trascorrere un quarto d'ora qui davanti alle porte del Castello Ezzellino per accorgerci che sono stati almeno 30 i turisti interessati a visitare le mura a visitare le bellezze della nostra città che tuttavia hanno trovato la porta chiusa. Avrebbe avuto piacere da turista di visitare anche il Castello e le mura? Sì, sarebbe stato interessante vederlo, come sarebbe interessato in tutta la città. Da turisti vi sarebbe piaciuto fare un giro anche sul Castello, insomma sulle mura, invece è chiuso? Eh, purtroppo sì, era bello visitarlo. Che dobbiamo fare? Un'occasione persa? Sì, sarebbe piaciuto però essendo chiuso non si può. Tutto chiuso? Visto che in Italia ci sono tanti bei posti, ma non dovrebbero essere chiusi bensì aperti, per farli visitare più che altro. Un peccato allora. Un vero peccato. Prima che richiudono tutto, quindi proviamo a vedere. Un vero peccato, volevamo visitare invece, un vero peccato. Ad oggi purtroppo è così, speriamo bene. Questa è solo una parte delle tante voci di disappunto che abbiamo raccolto da chi sceglie Bassano per le proprie ferie o per una gita. Una città come Bassano ha bisogno di turismo, ma prima ancora di un'amministrazione che ascolti i bisogni dei turisti e non li lasci tristemente davanti a una porta chiusa. Condominio Ater, piazza San Marco a Rosà. Qui i condomini da quasi 20 anni vengono letteralmente sommersi da liquami e melma durante anche il più piccolo temporale. La zona garage è diventata praticamente una caverna di fango, al punto da costringere i residenti a parcheggiare all'aperto. Questa situazione, quanto mi riguarda, a me da quanto sono caposcala, sono circa 12 anni che ogni temporale appunto che viene fuori è una cosa esasperata, cioè non ce la facciamo più. Ogni piccolo temporale, ma neanche da dire di grande intensità. Da una bocca di lupo, anche da altre parti, però specificamente da una bocca di lupo, viene fuori fango e sassi. Cioè questa bocca di lupo, invece di risucchiare il tutto, manda fuori sassi, fango e automaticamente anche da altre parti. Una situazione al limite dell'invivibilità diventata insostenibile nel corso degli anni è sempre più pericolosa come si evince dai muri crepati e dai segni di cedimento di alcune pareti. E poi ci sono queste reti, presenza fissa da oltre 18 anni, che rendono ancora più difficile la pulizia del locale garage. Ho detto alle signore delle pulizie che basta, cioè che si fermino, che male che vada chiamerò un'impresa perché non si sa se è terra, non si sa se è fango e tutta polvere può essere dannosa anche alla salute. Per venire a capo di questo problema i residenti si sono rivolti prima al comune e poi all'Ater di Vicenza. Abbiamo chiamato l'ufficio manutenzione Ater con l'e-mail, le video, foto e addirittura è stato detto che loro non possono fare niente, che è il comune, cioè si rimbalzano. Siamo a un punto che proprio non sappiamo più cosa fare. E mentre si cerca di fare chiarezza sulle responsabilità in merito ai necessari interventi da realizzare, si avvicina a settembre con le sue piogge. Un tocca sana per chi soffre il caldo, un incubo per chi sa già che dovrà fare i conti con un mare di fango. Acqua, preziosa risorsa del territorio. Vediamo oggi i dati che attestano la qualità dell'acqua di quanto esce dal nostro rubinetto di casa. I risultati riportati rappresentano le medie sulle analisi effettuate da Etra. Ogni anno 50.000 prelievi da analizzare e 2.200 campioni sull'acqua potabile. La durezza totale ha un valore di 20,6 gradi francesi. Il pH, ovvero l'indicatore di acidità, è di 7,63. Il residuo fisso, che esprime il contenuto salino dell'acqua, si attesta a 219 mg per litro. Il calcio ha un valore di 59,5 mg per litro. Il cloro residuo è a 0,06. Il magnesio è a 13,8 mg per litro. Il valore del potassio, inferiore a 5 mg per litro. I risultati del monitoraggio interno dell'acqua potabile erogata sono disponibili sul sito internet www.etraspa.it in cui è possibile trovare le principali caratteristiche dell'acqua, comune per comune. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata.